buonasera signori intervista migliori in campo il capitano gino scarpati del pm partita prederminata contro il deportivo la colonia di 8 5 mi sembra il punteggio finale più tre più tre complimenti gino come è stata partita una bellissima partita anche sono un po animato però comunque alla fine siamo riusciti a mantenere se facciamo un gol e sbiamo un altro però è lo sport complimenti vozzella è stato anche tu uno dei migliori in campo infatti l'inviato era deciso da te e gino è anche grasso alla fine la fascetta ha deciso gino scarpati gino primi in classifica se non mi sbaglio per lo meno di un punto sull'ajax non lo so le altre cosa hanno fatto la settimana prossima avremo lo scontro contro l'ajax vediamo cosa succede quella sarà una bella partita gino ti auguro un in bocca al lupo e complimenti per la vostra squadra specialmente oggi molto molto corretta mi sei piaciutissimo complimenti ecco di là i femminelli stanno lì mi indica che mezza rossa e tra poco li porta a dormire tutti qua infatti infatti ragazzi